Dorotea, in quanto dichiaratasi dama in pericolo, riuscì a convincere Don Chisciotte ad abbandonare la sua penitenza d'amore. Ma adesso bisognava trovare un modo di riportare Don Chisciotte a casa sano e salvo. C'è un unico modo, fargli credere di essere vittima di un incantesimo. E così Cardenio, il barbiere, il curato, Dorotea, costruirono una gabbia dove rinchiusero Don Chisciotte, facendoli credere che fosse a causa di un incantesimo. La cosa sembrava funzionare, ma siccome ogni tanto Don Chisciotte bisognava farlo uscire per i suoi bisogni, in una di quelle occasioni Don Chisciotte vide una processione che trasportava una statua e scambiò la statua per una dama trascinata a forza, intervenne e si guadagnò ancora altre botte, tante botte. Ma alla fine, tutto abbaccato, Don Chisciotte tornò a casa sua.